L'hand bike su cui viaggiava Alex Zanardi lo scorso 19 giugno mentre percorreva la strada statale provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia in provincia di Siena sarebbe stata regolarmente funzionante dal punto di vista meccarico. E il manto stradale non sarebbe stato ammalorato cioè difettoso sarebbero questi alcuni elementi che emergerebbero dalla consulenza tecnica disposta dalla procura di Siena sull'incidente in cui l'atleta paralimpico quel giorno impegnato in una staffetta benefica rimase gravemente ferito dopo aver sbandato e urtato contro il tir che sopraggiungeva in direzione opposta. L'ingegner Dario Vangi professore di progettazione meccanica e costruzione di macchine del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze tra i maggiori specialisti in infortunistica stradale ha depositato nei tempi concessi 60 giorni la relazione richiesta dalla procuratore Salvatore Vitello e dal pubblico ministero Serena Menicucci. Le operazioni di consulenza erano iniziate il 16 luglio con un sopralluogo nell'era dell'incidente anche per valutare le condizioni del manto. Poi Vangi, già perito e per l'inchiesta sulla morte di Franco Ballerini durante un rally nel 2010 nell'inchiesta sulla strage ferroviaria di Via Reggio, è passato all'esame di eventuali guasti tecnici o difetti di costruzione del land bike di Zanardi. Le analisi avrebbero escluso dunque il malfunzionamento del velocipide. Da ricordare che per l'incidente all'ex pilota la procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravissime da incidente stradale, iscrivendo nel registro degli indagati come atto dovuto, hanno precisato più volte i magistrati, l'autista dell'autocar, un trasportatore senese. Al termine dello studio i magistrati valuteranno se saranno necessarie nuove indagini per approfondire eventuali questioni ancora incerte oppure se definire il procedimento penale con la richiesta di archiviazione dell'unico indagato.